buongiorno eccoci allora finalmente vi faccio una bella panoramica sono arrivati e voi sapete di cosa parlo allora vi indico che di qua ho creato tutta una nicchia particolare unisex abbiamo anche musgo e clausport lo spostate di qua qualcosa di musgo ce l'ho di là per questioni di di menzola oggi mi è arrivata come voi avete capito e come vi ho anticipato bon perfume allora qua esplode una lì una nicchia fantastica dove abbiamo dei profumi ovviamente per ora abbiamo i piccolini perché quello grande costa una cifra e quindi vi spiego il succo questa è una casa particolare di nicchia che crea i profumi i profumi gourmet i profumi speziati i profumi caramellati allora qui abbiamo vedete la parte dei diciamo 101 102 103 non so adesso se 101 102 103 come si pronunci però so buonissimi allora partiamo con la parte rosa quindi io oggi ovviamente non ve li posso descrivere tutti perché mi sono arrivata adesso me li devo tutti annusare li devo studiare li devo accomunare con qualcosa e poi lo sapete che vi faccio una spiegazione particolare oggi vi dirò due tre cose particolari per esempio abbiamo il 103 che mi ha colpito moltissimo che è mescolato con l'ibiscus il fiore di jasmine praticamente è buonissimo e adesso in diretta me lo vaporizzo ragazzi questi escono fuori da tutto perché lavorano con pochissimo alcol all'interno per esempio c'è bergamotto qui adesso ve lo dico nello specifico bergamotto ginestra ibisco gelsomino neroli vaniglia e muschio questa è una cosa fantastica cioè questo è già il mio profumo preferito e ovviamente come profumi di nicchia sono profumi molto intensi quindi voi quando li sentirete quando me li chiederete io ve li vaporizzerò ma sentirete un odore proprio un un odore di profumo e che cosa vuol dire un odore di profumo che siccome non sono mescolati con l'alcol sentirete l'essenza quindi sono profumi intensi particolari che vengono che poi alla fine non vengono tanto perché vengono il 30 ml un 44 euro più o meno di listino e calcolando che un 30 ml di giador preso a caso costa 56 euro quindi alla fine non vengono neanche tanto per ciò che valgono poi vi posso far vedere un altro che mi ha colpito e ve lo voglio spiegare oggi è il 402 che all'interno ha vaniglia e caramello io ovviamente per fare tutto con una mano spruzzo con una mano tengo questa pure il 402 qualcosa di veramente top all'interno c'è mela fiori di mandorlo vaniglia del madagascar zucchero muschio e elitropio una bomba questo è il mio no allora quest'altro il 103 è veramente buono leggermente fiorato poi abbiamo qualcosa dove c'è base di vetiver cedro e bergamotto anche un pochino più maschile perché questa questi profumi ovviamente sono unisex perché tante volte voi donne mi chiedete un profumo da uomo per esempio io spesso utilizzate roma utilizzate il vetiver e utilizzate mamma mia questa è una bomba questo uomo col cappello cappotto che arriva bomba te sdraia come si dice a Roma questo è buonissimo il 601 abbiamo all'interno peperosa bergamotto pompelmo legno di sandalo e vetiver qualcosa di veramente eccezionale mi sono sbagliato ho diviso il 601 al 602 infatti non mi quadrava bene la situazione allora questi io ve li consiglio per fare un regalino di natale per uscire fuori dallo standard come vi dico io è qualcosa sono qualcosa di veramente eccezionale io adesso me li studierò tutti con calma e se volete venire ad assaggiare ad annusare questa cosa fantastica che ho preso questa azienda super nicchia ovviamente vi ricordo che non ce l'ha nessuno ce l'ho io e qualche profumeria fantastica di nicchia come tutto quello che stiamo facendo perché sono profumi che alla fine non vengono più di un commerciale ma all'interno hanno pochissimo alcol e tutte cose naturali studiate sono profumi che escono fuori dalla norma quindi voi non troverete mai il gemello che ha il vostro profumo perché perché questi sono profumi particolari particolari e a ogni pelle diciamo si no mi stavo a struzzare con la collana non volevo fare un video serio però non riesco a fare un video serio quindi vi dico che se volete uscire fuori dallo standard venite qui che abbiamo tutte le carte regola per essere particolarmente speciali rd profumeria centro commerciale la palma vi ricordo che venerdì e sabato facciamo orario continuato domenica aperti solo mattina vi aspetto